I Verdi contro la chiusura di Mappatella Beach. È l'unica spiaggia libera della città di Napoli, quella del lungomare Caracciolo. Eppure c'è qualcuno che vorrebbe chiuderla perché la ritiene un pessimo biglietto da visita per i turisti. Quel qualcuno sono i residenti della zona che su impulso del noto architetto e docente di disegno urbano Gerardo Omazziotti hanno dato vita a un comitato per la chiusura del Lido della Rotonda Diaz. Le motivazioni sono l'assenza di servizi e sempre secondo il comitato la discutibile qualità dei frequentatori di Mappatella Beach. La notizia ha scatenato però la reazione dei Verdi Ecologisti che per bocca del responsabile regionale del partito Francesco Borrelli hanno annunciato battaglia contro la chiusura della spiaggia libera e anche alcune proposte utili al miglioramento dei servizi come la realizzazione di pedane in legno sulla scogliera.